Il corso di modellazione geometrica in architettura si propone come esperienza interdisciplinare tra rappresentazione e matematica. L'obiettivo principale è quello di proporre un'analisi critica dell'architettura filtrata attraverso la geometria, geometria intesa come linguaggio condiviso tra rappresentazione e matematica. Produrremo modelli fisici e digitali per sviluppare la consapevolezza di poter analizzare e comunicare il patrimonio architettonico proprio utilizzando i modelli, modelli intesi come declinazione degli statuti della rappresentazione in quanto media al cui potenziale identico e comunicativo diventa significativo anche in ambito matematico. È dunque importante avere una certa padronanza di alcuni elementi matematici legati a curve e superfici per utilizzare appieno le potenzialità della progettazione parametrica grazie ad un uso più consapevole delle funzionalità disponibili. Riprenderemo quindi i fondamenti di geometria analitica dello spazio e approfondiremo i concetti di base della geometria differenziale di curve e superfici parametriche. Nell'ambito del corso verranno presentati i discursi pubblicamente gli esiti da parte dei singoli e quindi verranno valutati tutti i modelli fisici e digitali prodotti e verranno commentate le tavole illustrative dei processi di prototipazione e anche degli approcci intridisciplinari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.